chi è il compagno di giorgia meloni andrea giambruno è un giornalista e scrittore televisivo per programmi di successo della mediaset mattino 5 quinta colonna em tv con l'uscita del libro io sono giorgia la biografia della leader di fratelli d'italia il nome di andrea giambruno è tornato a interessare il pubblico nella sua carriera da giornalista e scrittore televisivo la notorietà è arrivata con la risposta agli insulti proferiti dal professor gozzini nei confronti della compagna meloni fiero del ruolo di giorgia meloni nella politica italiana andrea giambruno ha dichiarato in più occasioni di aver votato per la sinistra italiana e di essere a favore della legalizzazione delle droghe leggeri e pesanti di essere favorevole alle coppie di fatto e di non essere credente sembrerebbero due persone totalmente differenti ma nel confronto e lo scambio di opinioni sono riusciti a creare un'armonia duratura dal 2016 sono i genitori di ginevra che come dice lo stesso giambruno li tiene tutte e due con i piedi per terra la decisione di non sposarci sembra essere condivisa e i due vivono tranquillamente insieme come una coppia di fatto la carriera di andrea giambruno come autore per mediaset lo ha portato a incontrare l'attuale compagna per la quale non nasconde un profondo rispetto ricorda in più occasioni il loro primo incontro come un colpo di fulmine anche se è stato per così dire anche abbastanza buffo non è geloso della carriera della compagna giorgia meloni anzi si dice molto orgoglioso di lei in generale giambruno è molto riservato e della sua vita si conosce poco anche se dopo l'uscita del libro di io sono giorgia si è acceso un certo interesse anche nei suoi confronti